La rassegna stampa è offerta da Lunedì 27 gennaio, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa apertura dedicata alla politica e le parole del segretario PD Matteo Renzi approvare la riforma elettorale, il cosiddetto italicum, vale più di una legge finanziaria intanto ieri sono anche giunte le dimissioni del ministro alle politiche agricole Nunzia De Girolamo io abbandonata dal governo, così ha dichiarato questo è altro all'interno della nostra rassegna stampa, vediamo Iniziamo con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero Renzi riforme e si arriva al 2018, l'intervista i leader PD, se le camere affossano la legge elettorale sono inaffidabili e vanno sciolte approvare l'italicum vale più di una legge finanziaria per il premio di maggioranza alzare la soglia al 38% poste quei 1,7 miliardi di crediti con lo Stato all'Italia dalle banche in arrivo 200 milioni si dimette la De Girolamo abbandonata dal governo, inchiesta ASL per il ministro timore di essere indagata retroscena il gelo di Letta, Nunzia, difficile da difendere ed infine taglio centrale dedicato allo sport e alla Roma trionfo a Verona 3 a 1, la Juve torna a meno 6 Gervinio non si ferma più, la Roma vince ed è uno spettacolo Passiamo subito alla pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno seccono all'ipotesi di smaltimento nella discarica di Castellino gli abitanti di Galatone scendono in piazza contro l'allarme a Mianto Sanità, salvati 30 mila pugliesi con la telecardiologia aumentano gli esami online, 112 mila nel 2013 taglio centrale dedicato alla politica Fitto, Silvio, non ci sono eredi e la De Girolamo si dimette il governo non mi ha difeso Sulla destra Lega Pro, Salentini sempre al terzo posto Lecce in 10 a Catanzaro, punto prezioso Taglio basso, l'epicentro localizzato sull'isola di Cefalonia forte scossa in Grecia, paura anche in Puglia La Gazzetta di Lecce, basta con i veleni cittadini in piazza per l'allarme a Mianto, mercoledì un confronto nell'ex oleificio ieri la manifestazione di protesta in vista la rinascita anzi la nascita di un comitato Maglie, attentato alla Paiano, spuntano due piste Taglio centrale, trema la terra anche nel Salento si muovevano lampadarie e divani il terremoto di ieri pomeriggio a Cefalonia in Grecia è stato avvertito pure a Lecce e in provincia Sulla destra ladri in azione, furti nelle villette di Torre Canca e Spiaggia Bella Eccellenza il Gallipoli più forte della crisi, sbanca Castellaneta e resta al comando del campionato Eccellenza Tonfo del Casarano e la vetta si allontana Promozione il Novoli si riprende la testa della classifica Basket, Nardosho, sospinto dai tifosi e ora si sogna Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia Lecce solo un pari ma la corsa continua Il Perugia lunga e domenica gioca al Via del Mare A Catanzaro si ferma la serie di vittorie consecutive contestate all'espulsione di Papini a metà ripresa Il Perugia lunga e domenica gioca al Via del Mare Al centro falsi e sospetti scontro totale Il caso della delega contestata Oggi una difficile mediazione L'opposizione chiede un nuovo voto La convention di Forza Italia, fitto, Berlusconi ci ascolti ma il CAV diserta Taglio basso, la protesta galato ne annardò Un coro nella piazza, no all'amianto Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia Pranzo con il terremoto, paura decine di chiamate Sisma in un'isola della Grecia, scosse avvertite in Puglia, nessun danno I nodi del comune, falsa delega e scontro Rifate la commissione, Pagliaro, presidente del Consiglio Un fatto grave In guscio un nuovo centrodestra, si rivoti dopo la denuncia di Ciardo Retroscena, quel progetto fermo da tre anni per il resort della discordia Le lungaggini, burocratiche, le voci di un contrasto fra imprenditori Per Rone e gli alfaniani, maggioranza la prova Oggi la riunione d'autilia a Forza Italia Basta, pretesti La sfida dell'innovazione, musei e sconti con Smart City Il bando, oltre un milione con i fondi regionali Cantelmo, oggi l'incontro L'anno giudiziario, criminalità sottotiro Sigili per 27 milioni Giusta l'astenzione degli avvocati L'accorpamento ha creato il caos Le critiche di Tanisi, rappresentante ANM Svuota carceri, decreto sbagliato La giornata della memoria Il numero diventa nome Per ricordare l'orrore In città le strade del centro Prendono l'identità dei deportati Numerose iniziative sull'olocausto In tutta la provincia Galato, Neamianto, il no dei cittadini in piazza Ieri la manifestazione contro il rischio Di dover smaltire cinque quintali di Eternit Provenienti dalla Sicilia Pagine dedicate allo sport Lecce, avanti ad agio senza brillare A Catanzaro finisce 0-0 Un match complicato e condizionato dal vento Rosso diretto a Papini che a metà ripresa Lascia Salentini in 10 L'analisi dell'allenatore Lerda Volevo vincere ma il pareggio va bene Mi tengo stretto il punto Per un'ora avevamo creato i presupposti Per fare gol Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa L'appuntamento è come sempre più tardi Con TG News 24 Arrivederci La rassegna stampa è stata offerta da La rassegna stampa è stata offerta da